ciao a tutti sono simone benvenuti nella sala posa di andrea e la foto siamo qui con il nostro amico massimo di aproma store per presentare i nuovi flash di elinchrom la serie elch flash da studio con funzionalità ttl flash da studio professionali sempre con un ottimo rapporto qualità prezzo come tutti i prodotti di elinchrom ma con caratteristiche decisamente interessanti ed innovative infatti abbiamo due monotorcia quindi sono dei flash che al loro interno contengono tutto quello che serve per generare la luce per generare il nostro lampo vengono alimentati a corrente quindi sono dei monotorcia da studio 125 e 500 watt secondo il 125 è un po più piccolo lo vediamo un confronto così esatto vediamo un po che quali sono le differenze quindi potenza assolutamente da flash da studio ma caratteristiche semplicità d'uso paragonabile a quella di un flash a slitta quindi funzionalità ttl hss e comunque se avete dei dubbi potete partecipare ai corsi che organizziamo con aproma store d'andrea e la foto esatto qui a busto a due passi dal negozio tornando tornando al prodotto col telecomando dedicato che è disponibile per sette brand di macchine fotografiche io ho la possibilità di pilotare il mio elch 125 500 ttl come se fosse il flash a slitta ma molto più potente molto più performante quindi ttl non devo preoccuparmi dell'esposizione la macchina assieme al telecomando skyport di elinchrom manderanno la giusta regolazione di potenza in tempo reale al flash che si adeguerà da uno scatto all'altro l'altra caratteristica importante sempre legata alla tecnologia ttl che è la hss quindi non avete più la necessità di ricordarvi quale sia il tempo di sincronizzazione della vostra fotocamera perché passato il tempo di sincron flash automaticamente il nostro elch ttl comincerà ad operare in hss quindi anziché mettere un singolo lampo potente ne metterà una sequenza per coprire l'intero fotogramma bravissimo sono ventilati come hanno una ventilazione intelligente quindi riconoscono il vostro stile di scatto non regola la ventilazione raffreddamento solo in base alla temperatura ma tenta di capire anche quando farla partire fra uno scatto e l'altro per non influenzare esatto per non arrivare già già pronti già caldi altra caratteristica interessante è il flash sempre pronto io qui ho solamente il tempo di ricarica come dicevo usato alla massima potenza un secondo ma mi basta già scendere di un di qualche decimo di diaframma per avere delle ricariche molto più rapide il flash comunque sempre pronto ho impostato flash alla massima potenza alcune monotorce magari un po datate se io abbasso la potenza devo prima scaricarli per poter applicare la nuova regolazione bravissimo simone hai perfettamente ragione con la tecnologia di elch ttl invece questo non serve quindi io posso farlo caricare alla massima potenza fare una regolazione più bassa scattare immediatamente non devo aspettare questo tempo non abbiamo più la lampadina tradizionale la lampadina pilota caratteristica fondamentale dei flash da studio rispetto a un flash a slitta è quello di avere una luce continua che mi consente di capire come cosa e dove sto illuminando capire in anticipo prima di effettuare lo scatto quello che sarà il risultato dopodiché l'illuminazione viene fatta dal tubo flash il tubo flash è quell'anello circolare che vedete qua all'interno mentre la lampada pilota su elch 500 ttl ma anche su 125 ma è un chip led quello lì che vedete al centro in mezzo al flash una temperatura colore unica sia per la luce led bravissimo bravissimo un solo bilanciamento del bianco un solo 125 500 ttl mi consentono di scendere tantissimo di potenza partono come suggerisce il nome uno da 125 quell'altro da 500 watt secondo ma possono scendere fino a 7 watt secondo quindi veramente un tocco entrambi è una cosa che non è scontata bravissimo una volta il problema era avere tanta potenza flash oggi come oggi che magari lo usiamo in casa in appartamento solo per fare del ritratto non per sé tanti è molto più importante poter disporre di basse potenze per poter non sovresporre la foto per poter lavorare con diaframmi aperti e con i flash tradizionali non è sempre così facile con elch ttl invece ripeto scendo a 7 watt secondo quindi una potenza addirittura più bassa di quella di un flash a slitta della macchina fotografica certo da questo punto di vista se non mi dovesse bastare ancora il 7 watt secondo se per qualche motivo fossero ancora troppi io anziché scattare col flash passo a scattare con la luce pilota led che è comunque di intensità regolabile e guadagno ancora tutta una parte di energia luminosa regolabile sotto i 7 watt secondo senza cambiare come giustamente hai sottolineato temperatura colore del bilanciamento del bianco dispone di una modalità di scatto standard o una action allora la modalità action è quella che io posso impostare per velocizzare ancora di più il lampo per congelare il movimento questi sono flash che hanno un lampo che può arrivare a un decimillesimo di secondo però ho anche la modalità standard che è quella che mi permette di avere un lampo leggermente più lento comunque sempre rapido in grado di congelare il movimento ma con una perfetta costanza cromatica se dovete scattare una fotografia di prodotto e il colore di questo prodotto è fondamentale che sia costante questa costanza cromatica che è garantita grazie ad una tecnologia proprietaria elincrom sicuramente vi farà risparmiare un sacco di tempo in fase di post produzione perché avete la costanza cromatica garantita nell'arco di 100 150 kelvin di novità di ce ne sono diverse a cominciare dal pannello comandi incassato che mi permette ad esempio di appoggiare il prodotto se voglio illuminare il fondale dietro ad una modella ecco che allora io posso appoggiare direttamente il mio flash sul pavimento senza avere l'ingombro e l'ulteriore in piccio di uno stativo che poi va nascosto dietro la modella che fosse un nano comunque è ingombrante e l'incrom insieme a queste unità ha presentato anche tutta una nuova serie di accessori giusto? esatto ho presentato quattro nuovi kit di accessori una coppia di ombrelli shallow come vengono definiti un altro kit con degli ombrelli deep quindi a sagoma approfondita e poi abbiamo anche tre nuovi softbox che vengono proposti sotto forma di due kit un product kit con due softbox rettangolari e un portrait kit dove abbiamo un softbox se non erro hanno addirittura esagerato i lati sono addirittura 16 neanche 8 quindi è ancora più rotondo unito ad un piccolo softbox strip molto utile per creare una rim light o una air light alle spalle del soggetto per staccarlo dallo sfondo secondo me queste unità saranno sicuramente apprezzate dai miei clienti benissimo decisamente quindi non ti resta che invitarli a provare sicuramente grazie Massimo di essere venuto qui grazie a tutti grazie a voi amici ciao grazie grazie a tutti